Francesco Sarcina, frontman delle vibrazioni, annunciato nelle scorse ore attraverso un post Instagram La scomparsa di Giulia. La donna nel 2003 aveva ispirato una delle canzoni più amate delle vibrazioni, dedicato a te, primo singolo dell'album di debutto del gruppo. Nel post l'autore scrive in più di un'occasione mi hanno chiesto cosa volessi dire e intendere con lucente armonia. Mi ricordo che il mio primo pensiero fu ma come ca fate a non capire cosa vuol dire? Poi però mi resi conto che per capire realmente il significato forse era necessario conoscere Giulia ed ora è più che mai parte della lucente armonia lasciando armonia e immensità nei cuori di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla e se io non riesco a trattenere le lacrime per il dolore che provo non oso immaginare la sua famiglia. Famiglia che amo e amerò per sempre come ho sempre amato Giulia ma certo è che un giorno ci ritroveremo e rideremo della stupidità umana con amore vero ed eterno fra